Inizia raga! Quarta puntata di Temptation Island Questa volta non mi prega perché so che non c'è la sigla subito Benvenuti alla quarta puntata di Temptation Island Adoro, che bello! Sarà una super puntata questa Ok Però deve tornare Gabriele e Giuseppe Faccio un PS, questo è uno spoiler del vlog di domani eh Questa puntata i nodi arriveranno al pettine E sarà già tempo di fare i primi bilanci Ci siamo, ci sarà un altro falò da qualcuno? C'è tutto che immaginavo ma non questo Ma non è tutto Dopo un acceso falò di confronto anticipato dal quale sono usciti i separati Gabriele e Giuseppe vivranno qualcosa di inaspettato Dai Gabri! E poi accadrà un evento mai successo finora a Temptation Island Io ti chiederei se è possibile Che lui non veda più niente di quello che succede Ve l'avevo detto ragazzi Che io farò il mio Era questa la cosa nuova Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti Tutto questo è Temptation Island Morto Raga allora avevamo ragione La novità, la cosa che non è mai successa prima a Temptation Island È quello dei triestini Che appunto siccome lui aveva rifiutato il falò di confronto nella scorsa puntata di lei E lei aveva limonato il tentatore Lei ora richiederà di continuare ma senza far vedere nulla a lui Dobbiamo scoprire se anche lei non vedrà più nulla di lui Oppure no Però che shock Vi ricordate la coppia Gabriele e Giuseppe? Li avete visti uscire separati dal falò di confronto anticipato Sta per accadere qualcosa che li riguarda Vediamo cos'è successo Si inizia subito con loro Va oh allora Gabriele non mi fai cavole eh Che se lo perdoni esci con lui Io muoio Ti distruggo Nella reaction ovviamente non nella vita vera Attenzione Dopo che i due hanno lasciato il falò e sono rimasti nuovamente separati Giuseppe ha chiesto di poter rivedere Gabriele La sua mancanza Ed è deciso a dirle tutta la verità Gabriele Gabriele Il falò di confronto numero due Ovviamente lo trovate qua sotto nell'info box Perché ci faremo un video a se stante Però Mi ha fatto capire molto Voglio vedere che dice Perché veramente senza di lei Io non riesco ad andare avanti Perché mi manca Ma stai cinto Falzone Quindi vengo qui Per togliermi tutto questo male che ho dentro Falso La verità che l'ho tradita Che sono andata a ballare E quindi cosa Perché lei quando mi faceva la domanda Io ci dicevo sempre di no E lei stava sempre fumata Ora lei si è svegliata Lui non c'ha più quella che sta in casa O si e ti è sprezzato Lei dovrebbe essere la madre dei miei figli Te non dovresti proprio falli figli Mamma ragazzi Vedete Ma speriamo che non venga Vabbè ci vediamo dopo Lo sapevamo Contenti loro Contenti tutti La reazione comunque qua sotto Concentriamoci su Perla e Mirko Che in questa puntata Vivranno dei falò davvero incandescenti Oh via Mirko Dateci un po' di soddisfazione Mirko è richiamato nel pineto Quindi sicuramente Perla farà qualcosa Starà limonando anche lei Tante volte mi fa calare le patti Mi pesa la situazione Perché io poi non sono così Se io provo noia In quella quattro Ancora Ancora parla di noia Poi ti normali Oppure Vabbè ultimamente no Non come prima Vabbè loro mi fanno morire Perché parlano sempre di Pem Pem Quindi meno male Mi sta sul cazzo Cioè mi rompo il cazzo Cioè io devo pensare che devo stare con te Poi già so che tu Il tuo mood è quello Che il figlio telefona Ok Il momento che finisci Sei così Prendi due o tre secondi Il telefono Ci vestiamo Tu stai con il telefono E ti addormenti Cioè un po' di Non so come lo devo spiegare C'è struttura Eh diglielo Ma tu ti potresti Ti fatti domandare Perché non lo fa Non ti sa mai Dalla risposta Ma non gliel'ha mai Domandato Il figlio telefono Perché apatico Questo è Lui non lo ammette Dalle colpe a tutto il resto Vabbè nessuno però Ti obbliga a starci Amo Quando tu parli Io non percepisco Che tu stai innamorato di lui Sono sincero Percepisco che Che sei abituato A una routine A una zona con Perché è difficile Da lasciare dopo cinque anni Perché hai lasciato La famiglia Io non è che ti sto appuntando Io ti giustifico E ti capisco Perché dico Cazzo Lasci la famiglia Per cinque anni Ti ha dato una vita Che non è la tua Per un sacco di sacrifici Cioè io li ho fatti Quindi dico E cazzo Non sei giudicabile Anzi tanto di cappello Però se devo essere sincero Non mi viene da pensare Oddio quanto l'amato Un'unica che parla bene Sto ragazzo Bravo infatti Cosa ti trattiene La parte la paura Di ricominciare Niente Quest'anno i tentatori Li pagano bene C'è del posto alla rabbia Ma la mia vita Esce sempre fuori Questa è la verità Beh S'arrabbia sì È normale Nel senso Lei è 12 giorni Che dice quelle robe brutte Quella del fidanzato Tutto inizia da una chiamata Nel filmetto Oddio ora lei che ha fatto Cioè a me fanno ride Perché Queste si incavolano Tutte e due Per le cose che fanno gli altri Che dicono gli altri Però continuano A fare cavoli loro Questo me non c'è Dentro cosa E' il mio del fiamme Le patatine di oggi Sono le cric croc Non è stata Non sponsor Magari Che mi potesse comprendere Anche Senza fare chissà cosa Come riesci in questi giorni A farlo tu Che fa questo Mi capito Cioè Dove sono D'anni Io Una relazione Una convivenza Addirittura Proposte di matrimonio Mi faccio di una cosa Sì Cazzo le va Scusami Perla e Mirko Ci dovevano lasciare Quando lei Non ha accettato La proposta di matrimonio Secondo me Sono così Che non sei tu Ma Non le vuole parole Fatte pure Non le vuole parole Ah Io vi ricordo Magia Che Greta Questa dettatrice È voluta Segretamente Anche dall'altro Un paio nuovo Un paio nuovo Amore mio Ma io mi auguro Portatela fuori A questa Io amo Praticamente All'inizio non capivo Ma perché stanno parlando Di scarpe Si sono paragonati Praticamente La tentatrice Era piantata A un paio di scarpe La tentatrice L'ha detto Ma vuoi Il tuo solito Quale preferisci Di scarpe E lui Devo capire Se mi sono abituato A quelle vecchie Le voglio portare sempre Oppure Mi piacciono di più Quelle nuove Per me stesso Sempre Sono di fuori Tromba E basta Vabbè raga Sinceramente Non me ne frego Un ca A parte Sinceramente È proprio ridinoso Ma non me ne frego Un ca Ma mi credi Non mi viene Nemmeno Da piangere Ma non si amano Proprio rabbia A me non è che mi viene Da piangere Ma come che fai A dire Un conto Guarda Io sono più contenta Che dice Mi piace Sono attratta Sei una persona completa Anziché di andare A paragonare Di come stai con me A livello di dialogo E di come stai con me Dentro casa Tu mi devi spiegare Ma che cazzo Ha della vita tua Meno male Non gliene fregava niente Perché veramente Diventa pesante Perché tante volte Ti stregzi il cervello Ha ragionato sempre È la sua volta Che una pilazzata Vorrebbe far più pentem E parlare meno Il giorno successivo Arriva nel pinnetto Un nuovo video Alcuni fanno Neanche mangiare Un santa pace Che succede roba Che ha fatto Che ha fatto Il date con la tentatrice con Greta Comunque vada Me la voglio godere fuori Finanzata Ma aspetta altro Amo Che noia Che noia Obbaciatevi Date uno sprint A questa cosa Ma dormento Ma abbraccio Quattro puntate Un abbraccio Non posso Non posso Toccarlo In che senso Mettete lì Un asciugamato sopra Ora gliene frega Lei ci crede Che ci è rimasta male Ci rimarre male anch'io Non riesco An acqua di incassi Ci sono rimasto male io per lei Non sono mai stato così bene Amo Tu stai sputando nel piatto In cui tu hai mangiato Poi non sei te stesso Però posso dire Tutte e due Hanno sputato sul piatto Dove hanno mangiato Perché anche lei Si lamentava molto E si è lamentata molto Anche del Pam Pam Noioso con lui Cioè io Di questa coppia Non so a chi dà ragione Perché A volte simpatizzo per lui A volte simpatizzo per lei Ma in realtà Il mio pensiero È che loro Sono una di quelle coppie Molte Ce ne sono quest'anno Che non dovevano andare A Tentation Island Perché si dovevano lasciare prima Passiamo al viaggio Nei sentimenti Di un'altra coppia Che sta per dare Un decisivo cambio di rotta Alla loro relazione Francesca Emanuele Ah ok A me non mi viene i nomi Francesca Emanuele Sono che Emanuele Quello che la lascia sempre La tradisce sempre Quello che mi piace Insomma Che però è S-T-R-O-N-Z-O Rullo di tamburi A se stesso Praticamente Dirà Oddio No La voglio Cosa sta facendo Sì Ma Ma convinta Che il mio Per il suo Fosse Un amore Smisurato Sì Non è più Emanuele Emanuele Quello che doveva Di anche Gabriela Invece Io pure Lo vediamo Amore Brava Lei la vedo più Caratteriale Rispetto all'altra Magari lei Ci può dare Soddisfazioni È tangibile Questa cosa Cioè Io ve lo percepisco Questo tuo cambio Di direzione Tipo Non mi va manco Di mettermi A parlare di lui Esatto Brava Che ti posso fare Di parlare di sto rapporto Cioè Come se mi stanno A pagare del tempo Capito Brava Goditi la vacanza Brava E ora lui Sarà deluso E farà la vittima Sicuro Guardate Guardate Vedete cose Mi ha dato fastidio Però Però Si ha detto Se sta iniziando Guarda intorno Gli piace un po' Quell'Alberto Ma non l'ho vista Convinta Non l'ho vista Convinta Non l'ho vista Convinta Lo stato d'animo Di tutti i fidanzati Cambia completamente Perché non sanno A chi sono destinate Le importanti immagini Che stanno per arrivare Davvero Shock Di notte Cioè Il pinnetto muro Raga Vuol dire Che È una cosa seria Ma chi è Eh Se parlavano di loro Dai Ma aviti Voglio sapere Oh Questo è ansioso Sono io Praticamente L'ansioso Ma aviti Ma che è successo Perché Escano Ma che è successo No Niente Da un'appia Un po' D'aria D'aria Ah Doveva scurre già Princess Avevo Bravi Io Non so capire Non c'è da capire Devi dire Come un secondo Dai Avrà fatto una sorpresa Carina Perché Che ti dà Io mi do Io ti do Il piratti Ma è carino Alberto Lo voglio Non è vero Marca Perché questa cosa Non c'è un significato Non c'è un significato Vi ho portato i figli Che però simbolizzano Veramente La tua La tua rinascita Bravo Alberto Carino che sei Sì Sono imbarazzatissima Per questa cosa Bravi Baciatevi Baciatevi Ma noi come siamo cattivi E che speriamo nei tradimenti Da quello che non ha mai fatto niente Da quello proprio Superficiale del capo Che non lo sono Cioè quello proprio Che non gli ha dato niente Perché Le sta due anni e mezzo Insieme Io ho dato Ma non è che non gli hai dato nulla Questo gliel'hai date La prima ad affrontarlo Sarà Perla Che già provata Da ciò che ha visto nel pinnetto Avrà una reazione Molto forte Oh via Iniziano i palò di sera Vai Giusto Ho il continuo Ok perfetto Il continuo Dell'esterna di Mirko Guardiamo Bello E ride Sta in tilt Cioè Vabbè stava in tilt Pure per me I primi anni Sta in tilt E poi è finita Amore Per così poco Ti è fatto bene Stasfano Ti è fatto bene Stasfano Sì Dirò a Dani Che te livi un po' Quei cazzo Che si arriva Da 4 Qua Sul perla Che non si è stata più Ma Federico parla ancora Cioè Lui è imbarazzato Proprio Troppo Che è passato poco tempo Ci abbiamo andato a fare Cioè Ma questi ora stanno insieme Mi sono andato bene Quanti vostri ci sono Mamma Come fanno a stare lì Grazie 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 a te Ti li ha detto Voglio sapere Perché io non so leggere Capisci Mi sto sbarellando E forse penso Sia una delle cose Più Sì ho capito Più belle Che sia Mai Ho capito Fino a ieri Era con me La cosa più bella Ma addirittura La cosa più bella Questo sta con me Sino a 12 giorni fa A 17 anni Una cosa del genere Non gli è mai successa In vita sua Cioè Ma dai Pensi che stia mentendo? No no Penso di no Perché io lo vedo imbarazzato Lo vedo sereno Lo vedo tranquillo Ma poi Lo vedi vero Esatto Una persona che Si applica A organizzare una cosa Che con me Non lo fai È il problema Lo tiro sempre io fuori E sembra che io sono Quella che si lamenta Quella che rompe i corti Quella vizzata Ma perché la rutina Un dice con questa È la novità E c'ha quella roba Da un uomo Che la deve conquistare Si sta innamorando Io ad oggi Dico Faccio bene Ho fatto bene Ma ti fa più paura L'organizzazione dell'esterna O come si sta muovendo Con quella ragazza Come la sta guardando Bravo Bella domanda Mi fa paura Il fatto che lui Ha avuto voglia Di vivere quel momento Cosa che io a casa Faccio nei suoi confronti Ma lui non lo fa Nei miei Ok Lì la guarda L'imbarazzo Sta cosa che viene Tutto naturale Cioè lui è perennemente Preso E non vedo il perché Lui non chiede nemmeno Il palo Cioè che fondamentalmente Lui la risposta Se l'è data Perché se la vuole vive Ha scapito di media Lei ha empatia Fuori dal normale Io lo capisco Io sono la sua testa Io sono questo Credimi Io sto Senza parole Cioè non Io Non pensavo Dirà le stesse cose a tutti Tutti questi problemi Non pensavo Che lui avesse Tutti questi problemi Con me Credimi Cioè io Non pensavo Che lui avesse Tutti questi problemi Con me Allora io Tenevo ragione Alla litigata Tenevo ragione Ma che cazzo fai Ma sei scocciata Ma è possibile Che ti basta stare così Cioè è possibile Che tu stai bene così No perché non ci sta bene Che cos'è che ti fa piangere Che non pensava Lui dice cose pesanti Anche io sto conoscendo una persona Sono complice Dire le cose Dire le cose di questa importanza Cioè ragazzi Io dico Arrivo a dire cose così O non me ne rendo conto io Sono matta io Perché a un certo punto Vento che sono pazza Io non lo so Cioè arrivo a dire Convinta Al di fuori di qua Me lo vivrei Ma non lo dico Perché se lo dico E sono così convinta Di dire questo Mi chiedo il falò Il falò Ti fidi? Sì E che è Aladin Ti fidi di me Allora ho detto Quando si È una magia Quando si incontrano due magie Inizia il film Io non lo so Io non lo so Se stanno fingendo Boh Però lo trovo Come dice la terezza Lo trovo Bravissimo ragazzo Simpatico Bello E tutto quanto Però Che noia Comunque Io non so Se per i soldi Che ricevono Riuscirei A sopportare 21 giorni Di video Del mio fidanzato Che fa queste robe Con un'altra Boh Non lo so Non so nemmeno Quanto vale La popolarità Che ricevo In cambio Distruggerai tutto Ma poi le canzoni Sono sempre perfette Ma come fanno Oh vai c'è anche il continuo Ma Questi ti baciano Ti baciano Il prossimo falò è loro Quanto è dato Il limone a Mirko E Greta Sono aperte le scommesse Dopo la pubblicità Lo scopriremo Non posso sperarlo Cos'è che ti fa piangere Il modo in cui lui è Parla Non riesco a parlare Il modo in cui È nei confronti Di questa persona Che magari con me Non è più L'emozione La felicità Gli occhi suoi Cioè io lo vedo Lo vedo Un nuovo inizio Io non auguro Di prendersi tutto il pacchetto Io pensavo che gli aveva fatta La La proposta di matrimonio In realtà lui Aveva ristrattato Si potesse prendere il pacchetto Perché c'era qualcun'altro Se l'ha fatta valigia E se n'era andata Vabbè il peggio Me lo sorpreso io Va bene così Ma lo vuoi vedere adesso O nel villaggio Guarda tranquilla Lo vuoi vedere anche nell'immagine No Guarda l'ora Ti riprendi un po' Sì sì dai Va bene Va bene No E in attesa di vedere l'ultimo video Perla si sfoga con il singolino In pratica il mio fidanzato Si sta facendo la relazione Da 17 anni Innamorato Le cose che facevo con me E si è innamorato la prima volta Che stesse cose che sto facendo Ritorniamo alla spiaggia del Falò Ora è il turno di Francesca Ma io voglio vedere questo video Se non lo fanno vedere succede qualcosa C'è un limone Francesca non ha video Ma veramente? Non me l'aspettavo Nemmeno io Shock Non Cioè non so che dire Perché non me l'aspettavo No Non so che pensare Pensa a viverti Sono convinta Di vedere due o tre video Di vedere te stessi Oddio Non ho anche questa cambiatea Anche perché La motivazione per cui siamo entrati Sia un attimo persa Non credo che Siamo entrati qui dentro Perché Lui Come ho visto Deve decidere Se stare con me Oppure se continuare a vivere La sua libertà Ma sono io Che devo decidere Se voglio ancora una persona così Brava Ora tocca ai loro rispettivi fidanzati Sedersi sul tronco Davanti alle fiamme del Falò Ciao Filippo Oh No Non aspettavo Ora voglio vedere Lei si è lamentata finora Voglio vedere Che fa lei col single Ti dico la verità Sì Mi fanno male Le cose che ho visto E continuo a vedere Ma ti fanno capire Di andare avanti Con l'altra Non so se cambiarmi Mi vorrei cambiare Ecco Mi hai dato la felpa Basta Ascolta Lo so Che tu sembri Ma scusate Lei si è lamentata 20 giorni Del fidanzato Che vuole stare sempre in casa Sul divano A guardare i film E sta facendo la stessa cosa Col tentatore E non si lamenta Non la capisco Vabbè Sono sempre più avvinghiati Perché sta al telefono Spero che stia al telefono Guardando i miei video Vabbè Lui ha fatto di peggio Diciamo così Perché lui Si sta innamorando Lei invece si lamenta Di lui Appunto Col tentatore Poi è vero Ci sono un po' Di toccatine Un po' così Però Lui è peggio Secondo me Non ci hanno contenuto Ma io non ho capito Ma perché Questa è una cosa che Boh Devo entrare dentro Il meccanismo Come mai Se loro Sia lui Che l'altra Ma sia anche Le altre coppie Continuano a farsi La loro storiella Con le tentatrici Con i tentatori A conoscere loro Come mi sento con te Non mi sono mai sentito E varie cose Perché si incavolano Quando guardano i video Dove i fidanzati Barra i fidanzati Fanno le stesse cose In quel lato Da me No No Manca No No Sì No Semplicemente Sì Vedete Come fai a credere Una cosa così Nel senso Lui si avvicina a lei Perché è arrabbiato Ma torniamo al falò Ora è il turno di Manuel Oh Manuel Vieni bello Per te non ho alcun video Mi spiace film Vabbè Praticamente Loro oggi Sono inutili Perché lui non ha il video Lei non ha il video Cosa sono lì a fare Devo dire Che vestito così Molto buono Una decisione La prendo Perché ho veramente Quella forza Di prenderla Per bene sia mio Ma anche Soprattutto Per Amore E ora concentriamoci Su Ale E Federico Oh Eh Loro sono fidanzati Da tre anni E convivono Da un anno e mezzo Perché fanno sempre Gli assunti Lo sappiamo a memoria Ormai Vogliamo sapere Cosa succede adesso Io vi ricordo Che lei Nell'altra puntata Ha limonato il tentatore E ha richiesto Il falò Che Federico Ha rifiutato Dall'altra parte Ale è decisa A viversi Il suo percorso E tornando nel villaggio Si sfoga Con le sue compagne Di viaggio Ovvia Guardiamo Guardiamo Perché per ora Questa puntata È un po' Deludentina Mettiamo un po' Di pepe Non è venuto Nostra Sono Natali Filippo Andato a chiedergli Se voleva venire Al falò di confronto Con me E ha risposto Che Vuole finire La sua esperienza Che ha conosciuto Appunto Questa single E che è giusto Che io finisca La mia esperienza Qua Assurdo Vero Assurdo Sì E nesimo D'erosione Io non ho parole Mi crede Che sono sconvolta Perché sinceramente Uno che dice Non le patti lasciarla Ma voglio lasciarla Sinceramente Che senso ha Che sia con me Da adesso in poi Io faccio la mia vita Brava Brava Ale Brava Oggi Ti ha dimostrato Di affrontare te Esatto Perché evidentemente Ha capito Che ad oggi Affronta una lesa diversa Ok Quella che non è Sei massima Vai Lollo Prenditela E portatela via Anche a letto Allora Io Boh Non mi riconosco È la prima volta In undici anni Che Sono grato Per Un tradimento Grazie Solo su se stessa Dall'altra parte Federico Sembra essere Molto preoccupato Per lo stato d'animo Della fidanzata Eh Convinto Che Ale Stia male Per lui Dopo non essersi presentato Al falo di Ciao Ridicolo Cratici Ma Ale Chiaro che non è che ho proprio un cuore Compartemente stagno Che dici Lo chiudo Lo dedico a altre persone No E far sì che stia bene Assicurarsi che stia bene Non so Sei come sola con Lollo Carmettono Brava La tentatrice ha capito Sono più le chance Che si butti male Stanotte Che non che si come Sì Per amore Non si muore Ma cosa fa L'uomo Ma lo ridico Lo odio Passa una nottata Tormentata Convinto Che la sua fidanzata Stia soffrendo Per colpa sua E il mattino dopo Ma devi andare Il suo stato d'animo Non sembra essere cambiato Ma devi andare Al falo Ma io Io Non ho parole Non ho parole No si tagliasse i capelli Immagini di fortissima vicinanza Di Ale e il single Lollo Che avete visto Nella scorsa puntata Sì Adesso per Federico È arrivato il momento Di vederle nel film Ma cosa Ma come le vede Soak Soak Un po' come te Cerca me Ma io cerco te Ma va Sei sempre tu Che Voglio vedere la sua faccia Quando vede il limone Mamma Vivo per questo No ma mentirei Se dicessi tipo Oddio Cosa c'è Io così Mi vede andare a stringere la mano Tu sei una ragazza Molto Molto Buona Pazza È pazza È pazza Per l'ansia che ho avuto stanotte Per c'è Io temevo Non posso C'è Ma perché non gli fanno vedere il bacio Non ho paura di perderla Non ho paura di perderla Non ho paura di perderla È più grande paura Se no che lei sta male A te fa bene vedere il civile Allora Ti farà bene anche vedere il limone Bello Mentre Federico sta vedendo Quello che è successo Tra la fidanzata E il singol nonno Ok Nello stesso momento Nell'altro villaggio Ale arriva a prendere Una decisione Totalmente inaspettata E state bene attenti Perché ciò che state per vedere Non è mai successo A Temptation Hour Shock Quello che dicevamo Alla fine Della scorsa puntata Secondo me è stato davvero egoista Ha pensato a lui Come fa sempre E ho visto che lui Non ha avuto nessuna reazione Io ti chiederei Se è possibile Che lui non veda più niente Di quello che succede qui Brava E mi stai chiedendo Che il tuo fidanzato Federico Fino alla fine del programma Non veda più nulla di te Sì Se è possibile E l'accettano questa cosa E glielo va a dire Non capisco Muoviti Sì Glielo va a dire Glielo va a dire Oh Chiedervi di venire Di venire Grazie Scusa ma quando ti vediamo Non ti preoccupare Non ti richiede un altro falò Amo Le tue bolse Sono ancora al sicuro Questo è un video Dei due Che avresti dovuto vedere Arrivo dal villaggio Delle fidanzate Perché Ale Mi ha detto Di dirti una cosa Visto che tu ieri sera Hai rifiutato il falò Di confronto Vuole che da questo momento Tu non veda più Alcun video Che riguardi lei Ma già Hai detto Che secondo te È giusto Vivervi questo percorso E quindi Ha questo desiderio Da oggi Non ci saranno più Quindi non vede nemmeno il bacio Ok Per me va bene Cioè Non penso di dover dare Il mio accordo Ma per me va bene Ciao Ma questo qui Ma la personalità Ma come gli va bene E soprattutto Lei continua a vedere Video di lui In che senso che pensi fare Ti continuo il tuo È chiaro Cioè Dopo che ho visto questo Non vedo più Così altre cose idee Sai che se potrebbe Essere baciata con lui Però Eh Va bene Ma se 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 io devo andare lì No No Dovrei sentirmi La pizza Il fatto che Gli abbia baciata Quando la mia intenzione Di andare lì Era di andare lì E lasciarlo Cioè No ragazzi Ti scalfo Magari starò male Per sei mesi Magari starò male E te lo voleva di lei Ma Che voleva Charlie Non so Non so Può essere Ma lui Ma mai Vorrei un uomo Come lui Siamo di fuori Di fuori Cioè lui Quindi per me La situazione Cioè No Lui ha detto che Ha sempre sperato Che lei andasse con un altro Perché così Se la levava di torno Lui comincia Parte 3 Del percorso Che resta solo Tra me e Carmen Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo ragazzi No Io Io non ci credo Ma rompeva questo Sono scioccato Alla decisione della fidanzata Di non fargli vedere più alcun video Che la riguarda Federico Sembra quasi essersi liberato Di un peso Ed è deciso A concentrarsi unicamente Sul suo percorso Con la single Carmen Ma ora per Ale È arrivato il momento Del falò Federico Avrà conseguito Il suo intento State a vedere Seguro Io volevo costruire Qualcosmi serio con lui Volevo un matrimonio Quindi Non mi aspettavo tutto questo Sono veramente Comunque Su quello che è successo ora Lo chiedo a voi Ma tanto L'ho già segnato Ci voglio fare un video Più approfondito Immaginavo Un video Vai Quell'altro inizia Vai Insomma Stavo dicendo Voglio fare un video Approfondito Parlando di tutta Questa situation Perché è assurda Che io non ci credo Però se lo volete Fatemelo sapere Insomma Che poi Cioè almeno lui Che richiedesse Allora nemmeno lei Può vedere i miei video No Non gliene frega nulla Perché lui Lo fa apposta Perché vuole Che lei si faccia la storia Al di fuori Perché così Almeno lui Cioè Lei lascia lui E lui Che non ho il coraggio Faccia la mia vita Schifo davvero Mamma mia Schifo Se le do un bacio Non bacio sulla concia Ma quando mai È veramente un bugiardo Visto che cavolo Stia dicendo Io sono sconvolto Ragazzi Lo sapevo Comunque Che questa coppia Mi dava Soddisfazioni Però Sono sempre io Cattata A fare queste cose Che non si può Non poter mangiare No Ma io rispetto Lui si è liberato Si è liberato Ma no Non ha fatto niente Ha fatto tutto lei La responsabilità Se la prende lei Perché io Io faccio l'idiota Eh infatti Bravo Probabilmente anche questo È una delle cose Che mi piace di te Sono stati lì assillante Non per me a parte Ma te pensi che lei è uscita Delle di ricerca Credici Una notte via Che poi lei sicuramente Ha richiesto Di non fargli vedere Nessun video Per avere una reazione Da parte sua Ma io spero Che lei davvero Abbia E stia Aprendo gli occhi Su questo qui Che si faccia La sua storia Non ha il coraggio Di lasciarmi proprio Buongiorno Aspetta che questo passo Lo faccia io Io l'ho chiamato Il palo di confronto E lui non si è nemmeno presentato Brava Quindi questo dice tutto Alla fine penso che lui Non abbia proprio Le fatti Di lasciarmi Che sia soltanto Lo dice dal primo giorno Starvi lontano Mi aiuta Però comunque Non resto impassibile A quello che dice A quello che fa Mi fa strano Vederlo con un'altra persona Così affiatata No Ale Lo so È difficile Ma siamo tutti con te Non riesco a capire Come possa farmi questo Non lo devi capire A un certo punto Io sono sempre stata innamorata Di lui Fin dal primo momento Però ad oggi ti dico Che qualcosa si è rotto Brava Non è più come prima Non lo vedo più con gli occhi Che lo guardavo prima Meno male Speriamo Non riesco più a guardarlo Come prima Speriamo Ale continua a ripensare Le immagini del fidanzato Federico Insieme alla single Carmen E lo fa cercando conforto Nel single lollo Brava Vai dal lollo Vai Tanto non ti preoccupare Se pensi al di fuori Nessuno ti sta giudicando Anzi Tutti ti vogliamo con lollo Dici certe cose È normale che Dopo un po' Dici Ho capito È bello tutto Però Non c'è una certa Dai lollo Conquistala Come ben saprai Per te Non c'è alcun video È una cosa che Dette sinceramente Forse mi sta aiutando Ma stai zitto Vatti a tagliare quei capelli Non vedendo Non vedendo No Corro rischio Di farmi prendere Magari Dall'istinto Ah Perché mi hai avuto Tanto di istinto E di coraggio Soprattutto Ora voltiamo pagina E raccontiamo Il viaggio Nei sentimenti Che stanno intraprendendo Vittoria E Daniele Il loro percorso Vivrà degli sconvolgimenti Importanti No Anche loro Anche loro No eh Comunque mi sa che In questa puntata Nessun altro Falò di confronto Mi hanno salvato Infatti nel pinnetto Vedrà per la prima volta L'avvicinamento Della sua fidanzata Vittoria Ad uno dei ragazzi Single È male Come reagirà Almeno lui Speriamo Uno innamorato Ci sarà Aspettare Sapisce l'unico Poverino Daniele Dove la sta mettendo Quella maglia Sì Quella maglia Quella mano Allora Sono sicuro Che è sulla pancia Ma è un po' Equivoca Dove la sta mettendo No ragazzi Allora Io spero che sia L'inquadratura Che è stata Un po' Equivoca Ma Sono scontolto Anche il pane Del tentatore Si è allargato Dieci volte Sono stata una ragazza dolce Sesso di quello che non è lei L'opposto Di quello che è lei Ma posso Questo Ma te vieni Segui queste sensazioni qua Certo Io sono scioccato Meno male avevo detto Che era una puntata noiosa Ok Me l'aspettavo Ti spediamo Se ci saranno altre Mani moleste Ora io Voglio vedere lei Quando vedrà i video di lui Che reazione avrà Se si arrabbierà Dopo che sta facendo Tutta sta roba Il mio video che ho visto Insomma Nel pilletto La mia domanda Si è trasformata in Voglio stare ancora con lei Bravo Scusato Che geloso Bravo Bene tutto Però Insomma Poi sta girando Io anche Mi sono aperto comunque O benedetta Ti si è aperto anche un po' troppo Ma aver bisogno Di un approccio così fisico Non ce n'ho proprio bisogno Qua detto Perché non sono venuto per quello Ma allora Daniele Ma io ce la faccio Cioè Faccio di tutto Per essere da la tua parte Ma non puoi Appena vedi video Andare da lei Quest'omini Ma come si fa Buon giardo Ma di punti in bianco Ti sei cambiato di punti in bianco O lo sei sempre stato Allora Io tra loro due Sono più portato A stare Dalla parte di Daniele Per via Dell'altra Che vuole il figlio Ma stanno litigando sempre Litigano tutti i giorni Non possono stare insieme Tutto quel Quanto E quindi Boh Se all'inizio Vedevo Daniele Che si avvicinava A questa single Un po' così Come un vecchio marpione Sicuro Però diciamo che Ci può stare Perché lui alla fine Si vuole solo sfogare No? Poi magari Gli può anche piacere Però Boh È lei Dall'altra parte Vittoria Che vuole fare la vittima Ma al tempo stesso Sta facendo delle robe Che non vanno bene Un po' me l'aspettavo All'inizio Diciamo Avevo notato Che lui non aveva Contatto fisico I primi giorni Mi ero ripromessa Diciamo Di mantenere Un po' le distanze Qualora mi fossi rapportata Con qualche ragazzo Si vede Poi Stando qua Diventa Anche difficile No? Non ricevere Quell'abbraccio Quella carezza La mattina Quello che comunque A me manca Nella quotidianità E Io sto legando Con una persona Molto Abbiamo visto La verità Credo che lui Questa cosa L'abbia vista E gli abbia fatto male E quindi? Pensi che lui Si stia comportando così Perché E ripicca Brava Ha ragione Anche secondo me Mi spaventa più Tornare a quello Che avevo prima Piuttosto che magari Stare da sola Perché Si lasciano loro Già è vero Bisogna vedere Se lui ha limonato E per questo Decide di continuare La visione Dell'ultimo video Dopo Nel suo villaggio Mamma Che ansia Sarà per lei Un duro polpo No No Va in casa Della tentatrice Sicuro Sicuro Ma state scherzando? Nella prossima puntata Scopriremo l'evoluzione Del percorso Di Perle e Mirko Ma io voglio vedere il video Viaggio nei sentimenti Delle altre coppie Sta arrivando Alle tappe finali Ci sarà un nuovo Inaspettato falò Di confronto anticipato Deciso di tornare a casa Prima del tempo Mamma Ma io lo voglio sapere Ma io lo voglio sapere ora Io vi aspetto come sempre Lunedì prossimo In prima serata Sul canale 5 Per una nuova puntata Di Temptation No Filippo Io mi rifiuto Tutto video Dato che tutta la sera Che lo stiamo aspettando Io come faccio Aspettare una settimana Per sapere se Mirko È andato a casa Della tentatrice Oppure no E poi Questo luogo Falò di confronto Chi lo fa Perché a questo punto Loro non mi pare Io penso sia Vittoria Vittoria Che lo richiede All'altro Come si chiama Aspettate A Daniele Non lo so Fatemelo sapere voi Qua sotto tramite commento Comunque Io vi devo dire Puntata che era iniziata Deludentissima Per via Secondo falò Di Gabriela E Giuseppe Io Gabriela Mi rimangio Tutto quello che ho detto La scorsa settimana Però poi Grazie alle novità Tra Ale e Federico E la mano molesta Di Vittoria Che sicuramente Era sulla pancia Però Con le telecamere Tutto l'hanno fatta apposta Secondo me Diciamo che sì È stata carina Il finale Io odio sempre Questi finali così Perché Mi lasciano così Con l'amaro in bocca Però Tutto bene Quel che finirà bene Probabile Non lo so Speriamo Appuntamento Con una nuova reaction A Martedì Prossimo E domani Con un nuovissimo video Andate a vedere Il secondo falò Di Gabriele e Giuseppe Qua sotto nell'info box Ve lo lascio Il link diretto Mettetevi piace a questo video Se vi è piaciuto E iscrivetevi al mio canale Per non perdervi Nemmeno un aggiornamento Su questa edizione Di Temptation Island Per oggi è tutto Ci vediamo domani Ciao 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 Grazie a tutti.